Ci troviamo a pochi metri dal punto in cui è stato ritrovato questa mattina alle 9 il cadavere di Renata Serafini, la 54enne che era residente nel rione di Calagostina a Fermignano. Il punto è distante 500 metri dal centro operativo istituito per le ricerche in questi giorni. Il corpo della donna è stato ritrovato in una scarpata in mezzo a un campo di grano in località Cala Chiacchiera. Sul posto è stato atteso l'arrivo del medico legale e l'autorizzazione del magistrato a rimuovere la salma. Secondo alcune fonti il corpo della donna è stato avvistato da un signore in cerca di tartufi assieme al suo cane. 1.200 i volontari impiegati durante i giorni di ricerca insieme a decine di militari, dei carabinieri, della guardia di finanza, protezione civile, soccorso alpino e vigili del fuoco di Urbino che con l'aiuto dell'elisoccorso e i cani addestrati per la ricerca di persone scomparse hanno da sabato scorso battuto a tappeto boschi, case disabitate, corsi d'acqua e sentieri. Dopo diversi appelli lanciati dal sindaco sui social, l'intera comunità di Fermignano e del rione in cui abitava la 54enne ha preso questa mattina la tragica notizia. È stata trovata questa mattina intorno alle 9.00, 8.45.9, da un tartufaio in località Cala Chiacchiera, all'interno di un campo, al bordo di un campo. Purtroppo è stata trovata lì e si è intervenuti immediatamente questa mattina. Inoltre erano stati attivati anche i droni proprio per cercare di avere una visuale dall'alto e cercare di arrivare a mappare al meglio, avere la bonifica di tutto il territorio accanto dove era l'UCL, quindi dove era appunto il deposito, la base strategica di tutti i visili del fuoco, volontari e i carabinieri presenti. Ancora tutto quanto le indagini sono in corso, sono della compagnia di Fermignano, quindi di conseguenza il comando di Fermignano e aspettiamo anche noi di sapere al meglio gli sviluppi in merito a questa situazione. I genitori sono stati avvisati? I familiari, i familiari sono stati chiaramente avvisati immediatamente, sono stati avvisati sia la sorella sia chiaramente la famiglia della sorella e purtroppo è un triste epilogo, speravamo una sorte migliore. Speravamo tutti quanti perché avevamo impegnato appunto tante persone perché c'era la voglia e la volontà di poter ritrovare Renata Viva e invece purtroppo questa mattina abbiamo avuto questo nefasto risultato.